Bologna, 5-9. Ascanevs, una giornata di festa, unisce l'Emilia-Romagna alla comunità di Montegallo, nell'Ascolano, duramente colpita dal sisma che lo scorso anno devastò l'Italia centrale. Oggi, nel corso di una cerimonia, sono state consegnate al sindaco di Montegallo, Sergio Fabiani, le cittadelle della sanità e del commercio, due strutture di circa 330 metri quadri completamente antisismiche che ospiteranno negozi, servizi pubblici, oltre a una farmacia, e a un ambulatorio medico già attrezzati.